Ciao a tutti minimalisti dal Gamescom, una domanda velocissima. Tanti giochi, tanti trailer, tanti cinematic trailer. Volevo sapere qual è quello che vi è piaciuto di più, sia tra quelli di MMORPG che tra quelli dei giochi generalisti. E noi ci vediamo con i prossimi servizi dal Gamescom. Ciao a tutti!